Per quanto ci riguarda uno dei fenomeni che stiamo monitorando attentamente adesso è il trend sull'importanza e il valore dei dati. Vediamo che sempre più concessionari, sempre più player internazionali si stanno focalizzando nella raccolta di informazioni sugli utenti e nella valorizzazione sia dei messaggi pubblicitari. Quello che noi stiamo facendo internamente è di dotarci di una DMP. Soprattutto stiamo lavorando a quattro mani con i nostri editori Mediaset e Mondadori per creare un'offerta di dati condivisa che avrà lo scopo di valorizzare di più l'esperienza degli utenti sulle nostre properties, quindi offrirgli contenuti che per loro sono più rilevanti, più importanti per coltivare la relazione proprio che abbiamo con queste persone, per gli investitori pubblicitari perché crediamo che con questo canale di comunicazione che abbiamo aperto con gli utenti loro possano veicolare in maniera più efficace il loro messaggio. Infine stiamo creando proprio dei prodotti costruiti sui dati per cui segmenteremo la nostra utenza, cercheremo di capire quali sono gli interessi, le necessità che diversi target hanno e la nostra offerta editoriale, i nostri prodotti come Premium o Infinity verranno creati a partire da queste informazioni. Quindi sicuramente i dati per noi sono non soltanto un modo di valorizzare meglio la nostra inventory ma è proprio un nuovo approccio che stiamo portando all'interno dell'azienda. Grazie. 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 Grazie.